Dal primo gennaio, quando scatterà una nuova articolazione tariffaria, una famiglia retina standard che registra 95 metri cubi di consumo annuo risparmierà 7 euro sulla bolletta dell'acqua. Cambierà infatti ad inizio 2017 la tariffazione del servizio idrico nell'ottica del contenimento tariffario. Tra le principali novità il dimezzamento in bolletta della quota fissa che da 82 euro passerà 39 euro. È stato possibile attraverso una rivisitazione sostanzialmente degli scaglioni inizialmente previsti dalla normativa nazionale e quindi abbiamo un po' forzato la mano anche con l'autorità regionale e quindi inserendo più scaglioni, quindi avendo una maggiore suddivisione si riesce diciamo a ottenere una curva con meno picchi e più appiattita che in qualche modo vada a colpire e a beneficiare soprattutto ovviamente la fascia di popolazione di consumi, la popolazione a consumi standard e quindi è la fascia sostanzialmente intorno a 95 metri cubi e questo comporta in bolletta e questo è un dato reale, ci terrei a sottolineare un dato reale perché è un dato al lordo di IVA e di tutte le varie componenti perché fino ad oggi si davano un po' di numeri all'otto, io più volte in questo domenale ho detto, quindi è un risparmio di 7 euro, da 297 a 290 euro per la famiglia T. Importanti novità in arrivo anche per quanto riguarda le utenze disagiate e inutili familiari numerosi. Per entrambe le casistiche sono infatti previste alcune agevolazioni. Per quanto riguarda le agevolazioni già la tariffa prevede quella approvata dai sindaci che sotto 8.030 euro c'è una riduzione sostanziale, tant'è vero che il budget sono 350.000 euro e si va a intervenire su circa 3.000 utenti ai quali gli viene circa ridotto del 50% la bolletta. Ma ci sembrava, noi lavoravamo da tempo insieme ai sindaci, soprattutto avevamo fatto una sperimentazione con l'anagrafia anche di Arezzo per capire se era possibile inserire in tariffa un intervento per le famiglie numerose. Questo era complicato e quindi diciamo che a livello nazionale la EG e poi anche l'AIT non sono riuscite ancora a trovare il modo per poterlo inserire, allora la società con soldi della società e quindi che non vanno in tariffa interviene con un bando che uscirà a gennaio e che c'è un budget di 50.000 euro e che andrà a beneficio fino a 500 euro a bolletta, diciamo a famiglia di quelle famiglie che hanno più di 4 figli a carico. Quindi l'ISEE sarà sotto i 16.000 euro e quindi si va a intervenire in quel pezzo dove ancora la tariffa non interviene.